Musica 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 Ragazzi ci vediamo oggi finalmente un ritorno Grandissimo di sé ragazzi ci vediamo oggi Finalmente in arena Del pvp ragazzi o il dio del pvp Una vecchia serie che portavo Davvero l'anno scorso e mi divertiva Tantissimo sia giocarla che editarla Perché a parte che ero scarsissimo lo sono Ancora adesso nel pvp ragazzi Però mi divertiva davvero tantissimo sclerare E editare quello che facevo prima Cioè mettere magari spezioni tipo Webcam che si muoveva Tagli cose Incazzature tutte queste cose ragazzi Mi divertiva tantissimo quindi ci vediamo Oggi su badlion Diciamo che il buon tier mi ha rimesso la voglia di Riportare questa serie che mi piaceva davvero un sacco Ora scrivo in chat che possono Mandarmi magari la richiesta per Duellarmi quindi ok ragazzi Andatemela E vedremo E di sclerare malissimo Che retita 03 ragazzi che sarà un pro della morte Io lo so già Salutiamo il bondani che mi ha Praticamente mi ha taggato questa roba qua del pro della morte Ma vuole lo screen Non so se vuole lo screen Ciao bomber Ok no vuole lo screen Ok 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 scusa 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 Ok screen Calma Che dovenia L'hai già fatto? Oddio ma quanto sei veloce bomber Ok Calma un attimo Ho dei bucket di lava Che il buon tier mi ha insegnato usare i bucket Ok va bene così Uh no la road no è bomber Eh no eh Eh no eh Eh no eh Dai io sono lento raga No allora calma un attimo No come ho fatto di sharti Eh boh spammiamo Boh spammiamo raga Aggressivi No però la road no eh zio No dai no 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 Ok calma scappa Marco Scappa Marco Uh Perché hai messo la lava random bomber Ok calma un attimo No dai no 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 Sto già morrendo 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 Scappa 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 Dietro a quest'albero Dietro a quest'albero non mi vedrà Mi ha visto No che cosa sta facendo Perché no No mi sono bloccato Mi sono bloccato Calma Marco Calma calma Uh Uh Calma Allora scappiamo ancora un attimino raga Perché qua bisogna studiarsela bene Perché si mette i blocchi sotto i piedi Sto qua Io non capisco queste tecniche qua Di pro player della morte Allora No Scappa Marco ancora Scappa 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 Eh no Ma doveva non essere la lava Eh no Eh qua Wow Preso Mamma mia gg Ok Un buon momento di attaccarlo No la road no eh La road no bomber La road no La road no Uh Sto mangiando l'almenatore Sto mangiando Eh in difficoltà In difficoltà In difficoltà No no C'ho due cuori C'ho due cuori C'ho due cuori Boss spammiamo raga Boss spammiamo tra un po' eh Dove è finito No raga l'ho perso Dove è finito Ah era dietro Ah Aspetta mettiamoci le serime d'oro qua L'ho ripresa raga eh L'ho ripresa con molta calma Ok Calma un attimino Ma non capisco cosa stia facendo Uh come lo prende Uh come lo hitta bene No però la road no eh Bomber La road no La road no Non sono capace con la road Dai Come si fa con la road Non capisco cosa sia Sì ma Credo che sia per tenere lontane le persone È un casino raga No ma cosa Come c'è arrivata qua la lava Scusatemi un attimo What Ok Non voglio sapere niente Qua oddio Sembra Land Sembra Ok c'ho bomber Vuoi lo screen Non capisco cosa Vuoi lo screen No non voglio lo screen No non voglio lo screen lui Ok calma Non voglio lo screen Ok Hittiamolo per bene No raga lui vuole subito il corpo a corpo Ok calma un attimo Ok Uh Uh lo salta Uh lo salta Uh lo salta Ho trovato Aspetta mettiamo qua il bucket Ragazzi Non c'è visto Ok hittato Ah no scusa scusa bomber scusa 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 Che dove venia Che dove venia Vieni qua Per favore perdonami Se te ho hittato Ok calma Colui che pinga Che bel nome bomber Ok vestiti Io me ne vado Te lo giuro che me ne vado Mangia La tua mela d'oro Scusa Sei te ho hittato Hittato Ok Uno mi insulta Raga Marco sei scarso Ma cosa volete raga Vai Via Ok hittato ancora Raga Preso ancora Mamma mia Come lo prende Un vero pvpr Mamma mia De mark È in feed È in feed De mark è in feed Ehi Calma calma Raga Dovremmo morire raga No Sta scappando Scappa 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 No mi sono incastrato Oddio No non mangiare la mela d'oro Bomber fanno male le mela d'oro Lo giuro No raga È mangiata la mela d'oro No No l'acqua no L'acqua no L'acqua no Scappa Marco Mi serve un bucket d'acqua Veloce Ok Ok Mangiamo anche la mela d'oro No 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 Scappa Marco Boss mamma C'è le quattro cuori e mezzo No Non prendermi Devo spammare raga Per favore Perdonatemi Ma devo Eh mi ha killato Ah che pirla Eh raga Dovete capirmi Io comunque non sono bravo in queste cose Non sono per divertirmi Ok ragazzi C'è il buon matti Attenzione Io mangio la mela d'oro Però stavolta studiamocela bene raga Perché qua ci mettiamo No Via questo Tanto la roda non sono capace di usarla Quindi facciamo così E raga Si va a comandare Eh bomber team Ok dai Facciamo il suo screen Bomber Vai Forza Con la mia skin da nudo Perché fa caldo Ok mettiamoci qua così raga Ok Attacchiamo raga Attacchiamo Perché qua bisogna attaccare di cattiveria Frecce eh Ok Hittato Presa ancora No Ok raga Allora sto qua non so se è bravissimo o meno Però Ok raga Ma è un momento buono per attaccarlo corpo a corpo Ora non si spam Eh Ok raga L'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho preso Iiii Ok raga GG GG raga Finalmente la vittoria Subito che iniz peppe Raga non si taglia niente qua Eh no Con la roda lui è bravo raga Lui con la roda è bravissimo Però io lo sto hitando bene E lo sono in feed raga Eh no Calma Bello spaviamo un attimino raga Eh devo sbo-devo sbo- No Cazzo non mi sono messo il bucket Eh ci muoio Ci muoio Ci muoio GG Bella mossa Che perla Vai devi partire subito col bucket d'acqua Ah Che pizzo Z shadow king ragazzi Ok Allora mettiamoci bene Col bucket E la lava Ok Buona così raga Buona così Studiamocela bene Questo scontro Allora lui parte subito Ok Parte subito così Vuoi far screen? Non capisco Ok si vuole far screen Calma perché è venuto molto aggressivo Ok ci siamo Via Andiamo via dal bomber E mangiamo subito il melador Raga cosa facciamo? Vai Melador Intanto uno scrive axe In chat Ok Calma un attimo Ok Hittato Però star fermo non è che valga la pena Come faccio a mancarlo? Nelle bed sono un pro con l'arco Qua no Qua no A parte che nelle bed basta che colpisci il ponte E cosa hai provato a fare bomber? Ti vedo eh Eh volevi prendi Eh no dai però Eh volevi eh Volevi eh Guarda che io ho imparato dal buon tier Il migliore della zona Uuuuh Distrutto Grande zeta shadow Giovi subito così raga Si lascia subito Ok facciamo così Bucket di acqua Bucket di lava Mettiamo così Ok raga Mangiamo una mela d'oro Dov'è il bomber raga? Dove sei? Dove sei? Non ti vedo Eccoti là Ok vuole fare screen il bomber Facciamo screen Ok Ci siamo Scappiamo un attimo Ci proteggiamo qua dietro Ok Eh Andiamo dai via Eh Eh parte di road Parte di road il bomber Eh come ho fatto ad lasciarti I Preso Preso Non No ti ho preso Non capisco se ti ho preso Ok Boh Spamiamo ancora un attimino raga E poi partiamo Eh ma quanto mi dai di knockback bomber? Uuu Come prende fuoco Uuu Come riprende fuoco Eh ma mi toglie un botto raga Mi toglie un botto Ma dai Ma raga era strano Ma 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 mi ha dato un botto di knockback Raga vabbè 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 Eh Mattia 15 non ho ancora sfidato raga eh Uuu Questo qui è solo così Mi piace Scontri così mi piacciono di più raga Credo che lui vuole Ok Facciamo questo screen bellissimo bomber Comunque ragazzi mi raccomando Scrivetemi se vi piace Come serie Si Se vi possa piacere Una roba del genere Magari giocare assieme una volta a settimana Così Registrando Ditemelo Perché comunque si È un'idea Che Portata dal buontia Però comunque se voi Tornate dentro il mio canale Ragazzi è una serie che io portavo Praticamente Eh Ho preso danno Che pirla Portavo praticamente L'anno scorso ragazzi Quindi Forza su Mattia Mi ha perso 8 anni E non si usa l'arco eh Allora Calma Ma come faccio a risciarti Sembra che Ok Lui ora 3 2 Eh però pararsi non vale Io sono in campo aperto eh Ok Hittato ancora Ok Eh raga a sto punto vado Cioè non è che si può sempre proteggere Sto bomber Sì però dai Non si può spammare Lo facciamo anche io prima Eh 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 Bomber Eh 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 Calma 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 Uh Perché scrivelo Fabio Z In chat Non ha senso Ok Nick 004 Ragazzi facciamo le ultime partite Mangiamo la mela d'oro Ok Facciamo così Via questo E mettiamoci via Così Ok Così raga Ok Facciamo screen Nick Vai Ok Scappiamo un attimino Io ho già mangiato Sono già pronto Tecnicamente Uh Eh provate eh Ti ho aiutato anche io Ma Oh sto qua è bravo di arco raga eh È bravo Molto bravo di arco Ok calma Ok calma un attimino Eh Calma Questo qua è bravissimo raga Ok Gli ho dato fuoco Ok ora Ora è un momento buono Eh ma Raga è bravissimo Ok Calma un attimo raga Se la facciamo Eh Gli mancava pochissimo raga Dai Mi va ancora in mezzo Nick Ti gioco Nick Non va bene Ma come mi scrivono Escile Raga Un po' di senso Io direi Per questo video Dell'arena più 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 di tutto Ragazzi Ditemi se vi piace Come mini serie Perché io Sto cercando di tappare Un po' di buchi Perché devo partire Ragazzi Dovevo registrare Tantissimi video di fila Se vedete Sono sempre vestito uguale Perché ragazzi Sto registrando Un sacco di video di fila Oggi per esempio Hanno fatti 4 E siamo solo a mezzogiorno Ragazzi Ci vediamo al prossimo video Da Marco è tutto Lasciate un piace Se ancora non siete iscritti La canale Iscrivetevi Bella E là